Oggi chi frequenta un istituto agrario ha un indice di occupazione che si aggira intorno all'80%, non c'è nessun'altra scuola che ti dà questo tipo di possibilità e anche non solo occupazione, ma occupazione secondo la propria propensione, cioè quello che tu hai scelto di fare e ha elevato redditività, quindi chi fa l'istituto agrario non è uno spot promozionale, ma è un invito a una riflessione anche ai genitori che devono far o consigliare i propri figli a valutare questa opzione per dare anche una spina dorsale ancora maggiore alle nostre produzioni agricole, alle nostre imprese che quando vengono aperte dai giovani producono meglio di più, perché sanno usare meglio le innovazioni tecnologiche anche per conformazione mentale rispetto alle generazioni come la mia che ha un gap e a quelle anche precedenti che hanno proprio una difficoltà ad utilizzare le nuove tecnologie che sono quelle che permettono di impattare meno in termini di sostenibilità ambientale, ma anche di qualificare ancora meglio le produzioni migliorandole.